God bless this movie. God bless him. Come guardia nera, porco di me. Oh, madonna. Ho un po' di timore, la verità. Se lui... Se lui arriva... Io li faccio fuori tutti. Cosa ci fa là? Non sapeva. Ha dispeso? Ma è morto. Vieni dunque ad assaggiare il mio fragello. C'è guantate. Oh, ma che è? Eccone uno che non rivedremo tanto presto. Vieni dunque ad assaggiare il mio fragello. Polpo segreto. Ehi. In guardia. Ehi, tu! Non ti muovere! Prendi questo! Attento a te! Non ti muovere! Sei una schiappa! 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 Fa male! In guardia! Attentate! Aio! Vi tocca! In guardia! Desolato piccoletto! Là! Uno di meno! Ci siamo! Ok! Ok! Dobbiamo andare a cast... Ehi, teniente! Vabbè! Tendiamo la fortuna! Il problema è qui! Aspetta un altro! Come posso andare da qua? Aspetta, aspetta, c'è una cosa! Desolato piccoletto! Ok! Potremmo fare così... E andare di soppiatto! In teoria una cieca non dovrebbe vederci! Se andiamo di soppiatto in questo modo, dico! Un branco di incapaci! Un branco di incapaci! Chi cazzo è? Un cucciolo! Vediamo poi c'è la guardia... Aspetta... ... Fatevi riconoscere! Così va meglio! Allarme! In guardia! Allarme! Non mi sembra una buona idea! Non mi hai visto, non mi hai visto! Un altro posto! In guardia! Assaggia questo! Ti sei battuto bene! Calma! Ok! I'm gone! Pertanto io, duca Leopoldo, esigo che il riscatto del re Riccardo venga pagato prima che trascorra un mese, altrimenti vi vedrò costretto a discorre del vostro sovrano! Ah ah! Adesso siete a conoscenza del divertente contenuto di questo ultimatum! Ho idea che il duca si faccia delle illusioni! Indubbiamente! È tempo di fargli rimettere i piedi per terra! L'enchant! Ecco un salvacondotto che vi permetterà di raggiungere Leopoldo sul continente! Gli porterete questa lettera, nella quale gli spiego che può disporre di Riccardo come meglio gli aggrada, poiché io non pagherò mai! È tempo che io venga incoronato al posto di mio fratello! Al vostro servizio, mio signore, mi occorrerà un po' di tempo per prepararmi! Partirò all'alba! Molto bene! Vi auguro la buonanotte, signori! Se Longchamp riesce a partire, addio speranza di salvare Riccardo! Devo impedirgli di portare a termine la sua missione! Quindi io devo combattere qua dentro? In queste condizioni... Aspetta un attimo! 2000 anni dopo È inutile che vi prepariate, Messer di Longchamp! Voi non partirete! Robin Hood? Come... Non importa! Non puoi impedirmi di compiere la mia missione! Siate ragionevole, Longchamp! Arrendetevi e non vi verrà fatto alcun male! Tornate al servizio del vostro legittimo re! Legittimo? Cosa ce ne facciamo di un re che passa la sua vita a guerreggiare lontano dai suoi sudditi? No, Robin! Siete voi a dover riconoscere il diritto alla corona del principe Giovanni! Unitevi a noi! Che bei discorsi! Peccato che il vostro principe non pensi che alle sue tasche e mai a quelle del suo regno! Per l'ultima volta! Arrendetevi! Ah, Robin! Come siete giovani! Ma vedo che è inutile tentare di convincervi! E non sarò certo io a piegarmi al vostro volere! Regoleremo questa faccenda da veri cavalieri? Se è questo che volete! E' bene! Hangart! In guardia! Mi stupite! Siete in difficoltà, Locksley? Sono troppo forte per te! Aspè, aspè, aspè! Che ne dite di questo? E hop! Oh! Oh! Mi stupite! Bella sta filata! Ma è un vendente! Ma non sono troppo forte per te! Mi stupite! Non male, n'è vero? Non male, n'è vero? Non mi avrai! Non male, n'è vero? Affrettiamoci! Sì, vabbè, ma non ho Pendy! No! Venca in guardia! Pendy, non vuoi muovere! Vi sei battuto bene! Su l'Inghilterra! Mamma mia! Riposate in pace, Guglielmo di Longchamp! Ma Riccardo non è ancora in salvo! Dov'è Alan? Sono qui, Robin! Giusto in tempo, Alan! Prendete questo salvacondotto firmato dal principe Giovanni e travestitevi in modo da somigliare a Longchamp! Poi lascerete la città per raggiungerci a Sherwood! Vi affido il riscatto di Riccardo! Potete contare su di me! Lo consegnerò a Leopoldo e libererò il nostro buon re! Quanto a noi, trasporteremo il corpo di Longchamp e lo seppelliremo fuori della città affinché nessuno si accorga di nulla! A lavoro! Ok, gli abiti Longchamp gli sono perfettamente da, ma vabbè! C'è qualcuno? Voglio scappo intanto! Da chi vedeci! Abbiamo fatto la missione! Franco di incapaci! Non c'è quello che c'è... Anche di un'escalante! Di un'escalante... ha capito com'è il nostro buon reso! Non c'è quello che ci dà.. Un'escalante! 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 Dunquezza! Noi dobbiamo scappare e quindi l'unico modo è per di qua, quindi io mi farei una corsetta, una di quelle proprio velocissime. Appena su due stronti se ne vanno, mi sposto in queste altre due case e ce ne andiamo. Ma ti puoi mai fermare qua, porco giuda. Sì, sì, vai, vai, così va meglio. Oh, perfetto. Oh, oh! Oh! Oh Oh Excuse me Ah Ah Cosa? No madonna che pange Corpo trasportato E via Tutti agli orc Ah neee Senti ancora Conti soldi abbiamo 38.000 Tanto ormai siamo alla fine Bene ragazzi Nel prossimo episodio Assedieremo York Se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace Commentate Noi ci vediamo All'assedio di York Ciao ragazzi Ciao